L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede di Taranto intende valorizzare il tuo talento e le tue inclinazioni attraverso il settore tecnico. Sei appassionato di mare, navi, di costruzioni e motori marini? Ti piace lavorare in un settore aperto alla globalizzazione e all'innovazione tecnologica dei trasporti o nelle industrie di costruzione di mezzi di trasporto, svolgendo attività di riparazioni, regolazioni e controlli dei sistemi di bordo? Allora scegli il settore tecnico, indirizzo, trasporti e logistica, ex nautico. Puoi scegliere tra le opzioni conduzione del mezzo navale, conduzione di apparati e impianti marittimi, logistica e dopo il diploma potrai continuare gli studi presso gli istituti tecnici superiori nell'ambito mobilità delle persone e delle merci attualmente presenti, essere tra le figure professionali più richieste per l'intero settore, cui accedere anche con livelli di istruzione post-diploma, ufficiale di coperta, conduzione nel mezzo navale, ufficiale di macchina, conduzione di apparati e impianti marittimi, logistica, addetto alla logistica. Sei consapevole che la vita quotidiana è influenzata dalle tecnologie dell'informazione? Ti attraggono i sistemi informatici e vorresti apprenderne le tecniche di configurazione e di installazione? Il settore tecnico con indirizzo informatico sembra fatto apposta per te. Sei appassionato di sistemi elettronici e di impianti elettrotecnici? Ti affascina la robotica e l'automazione? Ecco per te il settore tecnico con indirizzo elettronico. Allora, settore tecnico, indirizzi, trasporti e logistica, informatica ed elettronica. Dove? Presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede di Taranto, naturalmente. Taranto, sede centrale, via Lago Trasimeno 10. Taranto, sede costa, via Lago di Misurina 2. Talsano, sede falanto, via Brunelleschi 20. Open Days nei seguenti giorni. Domenica 13 dicembre, ore 10, 12 e 30. Giore di 17 dicembre, ore 15, 17 e 30. Domenica 10 gennaio, ore 10, 12 e 30. Giovedì 14 gennaio, ore 15, 17 e 30. Domenica 17 gennaio, ore 10, 12 e 30. Giovedì 21 gennaio, ore 15, 17 e 30. Domenica 24 gennaio, ore 10, 12 e 30. Prenota via mail, orientamento, chiocciola archimedetarento.edu.it oppure telefonando al 329 08 34 638. Colora il futuro con la scelta giusta. Scegli Archimede. Grazie a tutti.